Per descrivere le attività che svolgiamo nel reparto meccanico del CATAS possiamo utilizzare una parola che è quella di collaudo. Collaudo inteso come verificare le prestazioni fisico-meccaniche dei materiali che vengono dichiarate dai produttori o che possono essere indicate dalle norme tecniche di settore, che possono essere nazionali o internazionali. I materiali con i quali lavoriamo sono molteplici, infatti si può andare dagli espansi utilizzati per le imbottiture delle sedie, delle poltrone o dei materassi, i tessuti, materie plastiche tradizionali o con caratteristiche speciali, piuttosto che materiali compositi e naturalmente il legno. Particolare importanza riveste nella nostra attività anche la verifica di adesivi e prodotti incollati, che possono essere pannelli sandwich, profili lamellari, pannelli multistrato o materiali compositi incollati assieme. La verifica di questi elementi incollati è importante perché solamente con una prova empirica è possibile valutare eventuali presenze di difetti occulti all'interno del prodotto. Per la caratterizzazione e la classificazione degli adesivi è una fase molto critica, la riveste la preparazione dei provini, infatti scelti i pannelli di legno in accordo alle specifiche delle norme, la preparazione delle loro superfici, la spalmatura, la pressatura, seguono le specifiche concordate con il produttore o definite dal metodo di prova. Una volta preparati i campioni iniziano le prove. La prova di Crip ha lo scopo di valutare la resistenza agli scorrimenti del giunto incollato, difetto che potrebbe manifestarsi in uso quando il giunto incollato viene sottoposto ad un carico esterno. La prova del potere collante consente di valutare la resistenza allo spacco di un incollaggio. La prova di trazione in accordo alle norme europee N204-205 classifica l'adesivo e definisce quale sia la sua destinazione d'uso, infatti a seconda del suo utilizzo finale si effettuano vari trattamenti in acqua bollente, acqua freddo in stufa, seguiti dalla prova di trazione, che fornisce un valore di resistenza al quale permette di valutare la prestazione dell'adesivo e quindi di classificarlo. Anche per i prodotti finiti l'approccio è piuttosto simile, in quanto per la valutazione della qualità dell'incollaggio si devono preparare i porvini e successivamente implementare le analisi. La prova giapponese tipo JASC che viene eseguita sui pavimenti, dopo immersione in acqua calda e permanenza in stufa, valuta la presenza o meno di fessurazioni sulle quattro facce dei provini. Oppure per gli adesivi per la posa dei pavimenti si valuta la qualità dell'incollaggio con il massetto standardizzato. Particolare importanza riveste il controllo qualitativo dei profili lamellari per finestre. Su questo particolare prodotto Catas ha implementato uno schema di certificazione di prodotto al quale hanno aderito negli anni le più importanti e quasi tutte le aziende produttrici italiane. La certificazione di prodotto del Catas offre alle aziende un importante strumento per migliorare e crescere nel tempo, sia da un punto di vista tecnico che tecnologico.